...quelle siano le persone da seguire, passetti, buroni, galli e pregliasco, la verità assoluta! Le verità le abbiamo noi, e allora io dico, senza atti di violenza, perché sono contro la violenza, ma la determinazione, signori, il pavimento già gli spicchiola sotto i piedi, e sapete cosa fare Cisco Ranto col vostro aiuto? Una semplice cosa, una mano è l'ultima spinta, è finito il loro gioco! Grazie, grazie Cisco Ranto, grazie per la tua carica, per la tua energia, per aver ricordato anche il dottor De Donno, a cui farei un altro applauso, perché veramente per persone come lui siamo anche qui oggi! Allora, un altro professionista, sale su questo palco, Marco Mori, Marco Mori è un avvocato che si è speso da subito, in tempi non sospetti! ...precedente, quel personaggio che oggi abbiamo alla presidenza del Consiglio, Mario Draghi! La migliore definizione di Draghi, che è stata data in assoluto, è quella dell'ex Presidente della Repubblica, Cossiga, che lo chiamò vile, vile affarista per i suoi comparuzzi di Goldman Sachs! Il curriculum di Mario Draghi comporterebbe che in un paese semplicemente normale, quest'uomo oggi sarebbe in carcere, non alla presidenza del Consiglio! Da direttore del Tesoro salì sul panfilo Britannia, dove tramò la svendita di quell'industria pubblica che ci aveva fatto grandi dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Svendete tutto dell'Italia! E proprio Cossiga ci ammoniva su un fatto! Pensate cosa farebbe se un giorno fosse diventato Presidente del Consiglio! E quel giorno, signori, è oggi! È oggi! E allora guardiamo il suo discorso introduttivo! Cosa ha detto Draghi per prima cosa? Qual è il suo obiettivo? Portare alle cessioni di sovranità nazionale, completare la distruzione della sovranità nazionale! Che cosa vuol dire? La sovranità non è una brutta parola! È la possibilità del popolo di essere padrone a casa sua! È la democrazia! Quindi Draghi è arrivato con l'intento di distruggere quello che resta della nostra democrazia per svenderla a quel potere economico che serve! Draghi era coautore, nel 2011 come governatore entrante della Banca Centrale con triscee, di quella lettera con cui il Paese venne minacciato, letteralmente minacciato! O fate le riforme che noi chiediamo, oppure noi chiudiamo i rubinetti! Perché ovviamente lo Stato è ricattabile in assenza di sovranità, monetaria specialmente! E perché vi parlo di questo? Ma perché il collegamento con quello che avviene oggi è evidente! Se tu devi andare a dare un'ultima spallata a una nazione già in ginocchio con le politiche economiche di austerità, con la distruzione che c'è stata in questi anni, cosa c'è di meglio di un'economia di shock evidente causata da una pandemia ingigantita della propaganda mediatica? Non c'è niente di meglio di questo! E sta drammaticamente funzionando! Perché oggi la capacità critica delle persone si è azzerata! Io ve lo dico nel mio settore, nei tribunali, vi garantisco che non hanno capito nulla di quello che sta succedendo! Sono completamente distrutti dal martellamento delle televisioni! Credono realmente che tutto quello che Draghi, e prima di lui il governo Conte, venga portato avanti per il nostro bene! Cioè Draghi che fa il nostro bene, ma ci rendiamo conto? È stato ricordato anche prima cosa ha fatto in Grecia, come ha chiuso i Bancomat e gli Sportelli per ricattare chi? Il popolo che sovranamente voleva respingere il memorandum! La reazione è stata quella di arrivare a un orribile ricatto! Quel ricatto che portò anche all'aumento, come è stato detto nell'intervento di prima, della mortalità infantile in Grecia! Del 40%! Cioè, chissà queste cose! Come minimo, di fronte a qualsiasi provvedimento di questo governo, si fa venire il cosiddetto ragionevole dubbio! Ma queste cose la maggior parte delle persone non le sa! Senti persone normali che credono che questa gente stia facendo il massimo per noi! Cioè, e qui è l'inghippo, il vero punto centrale! E non bastano più neanche le dichiarazioni confessorie! Quello che tutti i giorni ci dicono in faccia per recuperare le persone! È veramente una partita complicatissima a questo punto! Pensate anche a come si pone oggi sulla questione del Green Pass, che poi è il tema per cui siamo qui, in questa piazza, a protestare! Il Green Pass è una fase, intendiamoci, non è il punto di arrivo! È un altro passaggio, perché poi le libertà verranno ancora compresse in misura ulteriore nei prossimi mesi! Serve ovviamente la nostra resistenza per impedirlo! Ma voi pensate come hanno impostato questo pass? Sono consapevoli, l'ha detto anche in conferenza stampa, di non poter imporre un obbligo vaccinale diretto! L'hanno fatto con i sanitari, fondamentalmente, ma non potevano estenderlo a tutta la popolazione! Perché da marzo, aprile in poi, dal decreto di aprile, sono usciti i vari rapporti dell'AIFA, della farmacovigilanza! Voi sapete che è una farmacovigilanza passiva, passiva significa che in realtà non fotografa il reale stato delle reazioni avverse, ma ciò nonostante l'AIFA ha confermato, in questo momento, nell'ultimo rapporto, 14 morti come direttamente correlate al vaccino! I numeri, lo sappiamo, sono più alti, ma dal punto di vista strettamente giuridico, questo è sufficiente per rendere illegittimo l'obbligo, perché il paletto che è sempre stato dato da parte della Corte Costituzionale è quello fissato nel fatto che l'individuo non può essere danneggiato nella sua salute anche laddove ci sia di fronte l'interesse di tutti gli altri! Questo è il paletto! Con 14 morti sanno che non possono, ovviamente, andare avanti! Al che cosa fanno? Fanno un provvedimento dove ti danno un'alternativa, ma vogliono, e lo dicono espressamente, in questo senso, confessoriamente, vogliono che questa alternativa sia il più costosa e fastidiosa possibile! Probabilmente avrete visto il video di Brunetta che circolava in questi giorni, che si ingioia del fatto che dovremmo infilarci il bastoncino su per il naso, che è un problema di costi, è un problema di noia, fino al cervello, ha detto, giustamente, cioè proprio lo dichiarano apertamente! E allora questo che cos'è? Cioè il Green Pass in sé, se nei tribunali ragionassero ancora al netto della propaganda, cosa veramente complicata, è già irricevibile soltanto su questo presupposto, perché in realtà è un obbligo sul rettizio di vaccinazione in violazione del divieto, previsto in questo caso dall'articolo 32, dati i rapporti dell'AIFA, ti mettono questa forma di ricatto per cercare di dire va tutto bene! Ma questa dal punto di vista giuridico è violenza privata, è penale, è penale, semplicemente penale! Perché attraverso lo strumento della minaccia ti spingono ad andare a fare questo trattamento di cui ovviamente non sanno niente! Però una cosa di questo trattamento la sappiamo, sappiamo quali sono gli azionisti di Pfizer, per esempio, e ci troviamo BlackRock, Vanguard, J.P. Morgan, Bank of America, ecco questi sono i soggetti che oggi rappresentano la scienza, di cui ci chiedono di fidarci a scatola chiusa! Cioè J.P. Morgan dovrebbe dirmi qual è la scienza! J.P. Morgan, tra l'altro, ve la ricordate? Qualche anno fa, ai tempi del primo tentativo di attacco alla Costituzione, la famosa deforma costituzionale di Renzi, cosa diceva della nostra Costituzione? Non va bene la nostra Costituzione, perché la nostra Costituzione difende troppo i diritti dei lavoratori! Ma scherziamo? Ma scherziamo? Ecco, questi sono i soggetti azionisti che guadagnano in questo momento e Draghi è l'uomo che serve gli interessi di questi gruppi economici. Quindi il cerchio qui si chiude, si chiude inesorabilmente, in un conflitto di interessi palese che portano avanti laddove l'interesse della salute collettiva è all'ultimo posto. hanno aumentato di un posto i letti in ospedale, hanno creato terapie intensive, hanno assunto in questo anno e mezzo. No! Non hanno fatto nulla, nulla di nulla per la salute pubblica. Semplicemente si porta avanti un'emergenza perenne che serve a cancellare i diritti. Questo è lo schema. E non ne usciamo. Ora, cosa fare? Perché poi, che cosa sta succedendo qui in questa piazza? Già lo sapete. Il problema vero è cosa fare. Beh, sappiamo che, ve l'ho detto, dal punto di vista giuridico è estremamente complicato proprio per il discorso propaganda. Quindi le persone purtroppo dal 15 dovranno cercare di resistere nel tentativo di attendere che magari da qualche parte riusciamo a creare una crepa con le numerose cause che stiamo cercando di portare avanti. Quest'attività deve essere certamente parallela alla protesta, alla piazza, alla politica, quella in senso buono, quella che facciamo noi anche in questo momento. E dobbiamo portare avanti questa battaglia. Ma abbiamo anche altre forme di lotta che si sono rese possibili, che però richiederebbero un coordinamento che ovviamente è difficile da portare avanti, soprattutto se si considera che nell'ambito del lavoro i sindacati stanno lavorando dall'altra parte e non sono al fianco delle persone. Perché in realtà, se dovessimo guardare lucidamente la situazione, la smania di arrivare alla sottomissione di tutte le categorie che resistevano da parte del governo ha creato un punto dove si potrebbe attaccare. Voi sapete che gli scioperi sono fortemente regolamentati, quindi in sostanza oggi non c'è più una parità di rapporti di forza tra governo e lavoratori. Perché un lavoratore non può fare quello che si faceva una volta, cioè in caso di proteste, soprattutto nei settori essenziali, regole stringenti, presentazioni, e gli scioperi di fatto sono del tutto inefficaci, non più idoni a creare una barriera di fronte all'arroganza di un esecutivo. Beh, però, se ci pensate bene, stavolta hanno commesso da questo punto di vista un errore che dà una chance. Dal 15 di ottobre in realtà non c'è neanche bisogno di indire uno sciopero. Basterebbe semplicemente in tutti i comparti non rispettare le richieste che vengono fatte. Se io non mi tampono, dal 15 devo stare a casa per forza e non c'è più precettazione che tenga. Capite quale sarebbe la vera occasione a questo punto? Ma in tutti i comparti, dall'ambito scolastico, dall'ambito dei trasporti, le stesse forze dell'ordine, non vi dico quanti ne sto ricevendo anche in ufficio di esponenti delle forze dell'ordine, e i numeri li sapete, 20% almeno che sono contrari a questa situazione. Poi chissà quanti dell'altro gruppo invece hanno accettato ovviamente sotto ricatto, perché vale per tutti questo discorso. Quindi in tutti i settori ci sarebbe un numero di contrari sufficienti dal 15 per resistere lasciando a quel punto lasciando il posto di lavoro sapendo che è conservato non potevano andare oltre in questo momento quindi a tornare indietro e a tornare a lavorare siete sempre in tempo però se dal 15 effettivamente volessimo resistere rifiutandoci di portare avanti questi trattamenti che loro stessi ci dipingono come facoltativi beh, facendolo bloccheremo automaticamente il paese. Capisco, ripeto, la difficoltà di coordinamento con sindacati che stanno lavorando per il comparuzzo di Goldman Sachs ma questo è il quadro e questo ci darebbe una grande battaglia. Per il resto se questo non sarà possibile è evidente che chi ovviamente vive del suo lavoro non ha i soldi per resistere a lungo l'unica cosa che si può cercare di fare è sopportare la questione del tampone anche lì cercando di utilizzare quelle armi che abbiamo per fare in modo che il tampone vada a carico del datore di lavoro ed è un'ipotesi concreta anche questa perché in realtà è la stessa normativa generale sulla sicurezza del lavoro che prevede apertamente che tutti i dispositivi da utilizzare di protezione sul luogo del lavoro sono a carico del datore questo potrebbe dare una chance per cercare quantomeno di aiutare le persone più in difficoltà a resistere capisco, è poca cosa ma vi garantisco la battaglia in realtà la dobbiamo fare qui dobbiamo farla con la presenza nelle piazze con manifestazioni sempre più numerose con la visibilità per tutte le altre persone che in questo momento continuano a credere alla propaganda ma anche lì l'effetto della propaganda è forte durerà ma di fronte a quello che vedremo nei prossimi mesi e faccio un ultimo passaggio di nuovo su Draghi di fronte a quel piano nazionale di resistenza e resilienza questa bella parola che ora si sono inventati e utilizzano lo shock la distruzione la macelleria sociale che ci sarà nei prossimi mesi credetemi ne risveglierà tante di persone perché in quel maledetto piano per avere due nicche dall'Unione Europea noi cediamo ogni forma di sovranità e distruggiamo il poco che resta del paese nel piano è previsto persino il taglio delle pensioni il taglio della spesa pubblica cioè si va ancora più verso un'austerità spinta che in questo momento i politici salutano come il trionfo ci arriveranno i soldi dall'Europa ma in realtà significa ipotecare il nostro futuro e fare in modo che l'Italia sia commissariata come è già successo precedentemente ad esempio in Grecia perché è quello il futuro dal punto di vista economico che avremo con questo piano e allora vi dico vedrete che oggi siamo sicuramente minoranza ma man mano che la gente soffrirà purtroppo per queste scelte i numeri aumenteranno il punto e lì sarà la nostra capacità sarà quello di cercare di indirizzare la protesta nella giusta direzione perché fino ad oggi sono sempre stati molto abili nel prendere il dissenso e disattivarlo abbiamo visto anche operazioni politiche straordinarie come quella del 5 stelle che ha preso gran parte della popolazione che voleva lottare contro questo sistema economico ingiusto diseguale in generale contro questa ideologia liberista dominante ma poi ha preso quel dissenso e l'ha portato a votare la fiducia a Draghi cioè il 5 stelle che vota la fiducia a Draghi capite stessa cosa è stato fatto con la Lega la Lega ovviamente doveva prendere il dissenso a destra disattivarlo il 5 stelle era più quello di sinistra si sono mossi così magliettina basta euro tutte tante belle storie ma poi alla fine hanno preso le persone che credevano in determinati valori e di nuovo per andare a votare la fiducia a Draghi ora mi viene un nome quello di Claudio Borghi che mi viene a dire beh possiamo votare la fiducia a Draghi perché Draghi è un fuoriclasse dipende però in che squadra gioca ma per la puttana lo sappiamo in che squadra gioca Draghi Draghi gioca per la finanza internazionale quello era quindi ci hanno preso letteralmente per il culo ecco perché la fase che sarà veramente delicata sarà quella in cui si creerà un grosso vaccino di dissenso e stavolta non dovrà essere disattivato questa è la nostra sfida quello che dovremmo fare in futuro e adesso per ora comunque continuiamo a resistere vi ringrazio a questo ho scritto questa canzone si intitola Luna Park ho pensato a questo Luna Park dell'ipocrisia è ambientata questa canzone in un 2040 distopico che purtroppo però assomiglia pericolosamente e paurosamente al presente che vogliono creare Luna Park mi serve uova di panda mi sono appena svegliato e già mi manca la branda c'ho pure un cocker cronato che fa la rassegna stampa è un algoritmo la scuola il mio capo è una doma ma parla come Belen c'ho una playlist con le ex con quale esco lo scelgo con il comando neurale opzione shuffle sul resto femmino maschio in un trale per un altro giro su solo una bar non ho più credito mi hai fregato con la tua pubblicità ho ancora il vomito what you say non lo senti non lo sai cosa va troppo umidi troppo umidità non leggiano l'aria prendizzata e viana troppo nuova sta normalità se fanno il reso la cambio con un coupon dello shop per un altro giro su solo una barca non ho più credito mi hai fregato con la tua pubblicità non ho più credito con la tua pubblicità non ho più credito what you say non mi senti dove sei cosa va e forse è il caso di fare una piccola analisi su come siamo giunti fino a questa situazione in maniera da comprendere quali sono stati i passaggi e comprendere ancora meglio che cosa bolli in pentola per il nostro futuro se noi non saremo in grado di dare una svolta una svolta a questo trend vi chiedo di avere pazienza ma dobbiamo tornare indietro di qualche anno ma lo facciamo a tappe forzate velocemente parliamo anche soltanto dell'ultimo secolo allora nei primi fine ottocento primi novecento saprete che abbiamo il periodo della cosiddetta belle époque che cosa succede in quel periodo l'elettrificazione nasce la moda il consumismo nasce in quel periodo lì nasce l'idea di trascorrere il tempo libero delle vacanze cosa che prima era una cosa riservata a pochissimi a un'elite e così via l'idea che passa è quella che la proposta la proposta di benessere possa soltanto aumentare continuare aumentare continuare aumentare si arriva a una sorta di ubriacatura della proposta chi ha studi economici potrebbe collegare tra l'altro questi step che vi dico anche ai cicli di Kondratiev che sono cicli che lui riteneva prettamente economici ma che avevano ovviamente un impatto sociale molto importante circa 50 anni dopo siamo negli anni 60-70 periodo della contestazione periodo della new age periodo dell'ambientalismo dell'animalismo che già esistevano ma lì ripartono in gran forza il moderno femminismo anche lì viene rilanciato in quel momento un periodo estremamente movimentista anche la scuola muta in quel periodo lì ahimè mi tocca dire perché purtroppo da una scuola forse anche troppo coercitiva diventa una scuola che nei decenni diventa sempre più blanda fino a rinunciare alla sua capacità formativa e rimanendo soltanto più informativa questo è un periodo cosiddetto della confusione vale tutto c'è lo sdoganamento delle droghe per esempio in quel periodo lì c'è Woodstock e così via e facciamo un salto di 50 anni e siamo già ad oggi voilà dal 2010 in poi è chiarificata la supremazia tecnologica abbiamo quindi un periodo nel quale siamo prettamente immersi oggi che è il periodo tecnocratico non siamo più nemmeno nel periodo in cui comanda la finanza la finanza se andate a vedere nella storia dell'umanità ha avuto una vita relativamente breve nel suo potere sul mondo intero prima c'era l'economia è durata un bel tot poi è arrivata la finanza ma a questione di decenni adesso siamo in tecnocrazia tecnocrazia che cosa significa? significa arrivare a a condurre a condurre in maniera tecnocratica cioè possedendo le leve tecniche tecnologiche la popolazione quindi si va alla sostituzione decisionale non sei più tu che decidi ma è qualcuno che predispone quello che ti farà ti farà immaginare di decidere non sarai però più tu che decidi cosa significa esattamente questo? cosa significa? significa che intanto sono tre tappe di un percorso queste qua io vi ho dato solo dei benchmark naturalmente ma è un fil rouge unico significa che prima io abituo le masse a delle concessioni insperate fino allora se arrivava dall'ottocento e di colpo abbiamo tutto e avremo sempre di più poi le confondo con tali libertà ecco che siamo al periodo degli anni sessanta e settanta e infine li porto ad accettare qualcosa da parte di qualcuno che decida per loro come devono vivere come devono vivere come si realizza questa situazione decisionale attuale come avete potuto notare nessuno è venuto con il fucile a dirvi devi comprare lo smartphone giusto? no però tutti ci siamo convinti e tutti abbiamo lo smartphone in tasca per esempio allora sanno bene quelli che manipolano le masse che usare la forza porta chiaramente a ritrarsi quindi è normale che non abbiano usato questa strategia hanno usato una strategia più euristica come si dice cioè hanno dato una serie di stimoli i quali hanno portato a questa abitudine ad affidarsi ok? fin dalla più tenera infanzia e tra l'altro se lo notate vi ricordate i giocattoli anche solo di 30 anni fa erano giocattoli che regalati al bambino sviluppavano la sua immaginazione la sua creatività e anche magari la voglia di metterci le mani per smontarli e tentare di rimontarli oggi non è più così oggi il giocattolo è elettronico è concepito da qualcuno che non saprai nemmeno mai chi è va bene e fa giocare il bambino all'interno di un quadro ben definito che è stato deciso da qualcun altro per cui il bambino non sviluppa ovviamente il pensiero critico il pensiero della scelta può solo tentare di seguire il percorso che lo porta a prendere i famosi punti o quello che sia peraltro anche generando fin nella prima infanzia il senso di frustrazione che una volta non esisteva perlomeno fin quando ci si sposava che io sappia ecco più o meno tra l'altro questo percorso che tu indichi nell'infanzia sembra anche un po' così compatibile con quello che è il percorso di studi in generale appunto degli studenti io penso anche ad esempio a un percorso universitario nel momento in cui uno voglia fare degli approfondimenti che vadano un po' fuori da quello che è il programma ufficiale ecco lì è territorio di nessuno ed è eresia ma ecco andiamo avanti quindi a quale scopo tutto questo? allora abbiamo detto che questa disabitudine al pensiero porta automaticamente all'accettazione incondizionata di proposte le quali però sono condizionanti esse perché tu non hai più la facoltà critica di analizzare cosa ti viene proposto e di conseguenza accetti e sei anche contento perché c'è qualcuno che fa il lavoro per te pensare è faticoso e allora se qualcuno pensa al posto mio e mi presenta il piatto servito oh che bello faccio la firma ad una situazione così lo scopo la domanda è lecita ma la risposta vale 100 milioni di dollari dico dollari perché l'euro io non l'ho ancora digerito non so voi ma non l'ho ancora digerito allora intanto se avessero evitato di dirci che l'uomo è fatto immagine e somiglianza di Dio sarebbe stato meglio perché qualcuno questa cosa l'ha presa troppo sul serio e pensa che sia riferita solo a se stesso per cui ritiene di poter disporre va bene delle masse perché tanto lui solo lui una piccola parte di popolazione è il Dio in terra quindi il fatto di disporre della vita di moltitudini è effettivamente un qualcosa di estremamente pericoloso per le moltitudini naturalmente e questa è una possibilità l'altra possibilità è che semplicemente noi non siamo come umanità non siamo di Torino dell'Italia come umanità nel suo complesso non siamo ancora sufficientemente maturi anche questo è possibile è possibile la conoscerete la storiella dei marziani che vengono periodicamente sulla terra a vedere lo stato di evoluzione del genere umano la sapete volete che la racconti in due parole due parole la volete sapere va bene periodicamente i marziani vengono sul sul nostro pianeta per vedere qual è il nostro stato evolutivo arrivano l'ennesima volta e trovano una serie di persone seduta a franta disperata che dovevano costruire un ponte per unire due città va bene su un fiume qual è il problema vediamo che avete i mattoni avete le pietre avete il cemento avete gli architetti gli ingegneri le maestranze avete tutto quello che serve ma cos'è che vi manca risposta ci mancano i soldi ci mancano i soldi meraviglioso allora i nostri amici risalgono sull'astronave partono e mentre vanno via verbalizzano al passaggio cosa scrivono ripassare perché non sono ancora sufficientemente voluti naturalmente perché se hai tutto e mi dici che non puoi fare il ponte perché mancano i soldi probabilmente qualcosa non quaglia e questo è comunque in entrambi i casi in entrambi i casi ma questa era veramente una storiella di fantasia oppure fatti verificabili ma chissà secondo me ci può essere una traccia di realtà in questo effettivamente anche perché le probabilità ci sono come sappiamo eccetera ma adesso parliamo d'altro devo anche dire che anche noi tutti come popolazione dovremmo farci un pochino un esame di coscienza perché noi dobbiamo prenderci una parte sebbene minimale minimale di responsabilità ognuno di noi individualmente o come collettività per il fatto di avere concesso che questo modo di gestire la popolazione potesse andare avanti potesse sedimentarsi potesse prendere tutto lo spazio che gli interessava cosa non abbiamo fatto non abbiamo fatto le cose più semplici e banali alla portata di tutti non abbiamo dissentito sufficienza vuoi con le parole vuoi con i fatti ma non non l'abbiamo fatto non l'abbiamo fatto ok e quindi questo progetto diabolico perché non riesco a trovare un altro genere di definizione è potuto andare avanti tranquillamente a tappe forzate travolgendo poi per la strada tutto ciò che ha trovato e se prima lo ha fatto in una maniera più o meno sommersa adesso siccome come hanno detto alcuni già in precedenza siamo in zona cesarini adesso lo fanno assolutamente in maniera assolutamente visibile e smaccata perché? perché c'è una fretta di fondo c'è una fretta di arrivare ad una chiusura dell'ennesimo ciclo di quelli che vi dicevo in precedenza che chiude tra l'altro proprio in questi anni guarda caso e questo è il ciclo della raccolta cioè è la quarta stagione del ciclo e il ciclo della raccolta stanno correndo stanno correndo per far cosa? per raccogliere il più possibile perché poi ripartirà un altro ciclo un ciclo che sarà un ciclo in salita naturalmente e in questo può aiutare l'adozione di quella che io uso di nuovo la stessa parola di prima è una cosiddetta euristica positiva cioè smettiamola di puntare la nostra attenzione su ciò che non va lo sappiamo giriamo la schiena letteralmente a questo marciume e guardiamo e ci contorniamo non torniamo solo ed esclusivamente verso e di cose belle di cose vantaggiose utili per tutti per tutti perché tra l'altro se continuiamo a diciamo a rinestare a parte che come sapete bene dal vecchio detto più rimesti più sale l'odore va bene noi continuiamo a essere contaminati dalle cosiddette dissonanze cognitive che farciscono quotidianamente quotidianamente ogni genere di comunicazione da parte di chi ci vuole portare dove interessa a loro quindi dobbiamo girare letteralmente le spalle a questo sistema di comunicazione principalmente e organizzarci noi in sostanza vogliono fare il grande reset bene noi dobbiamo fare in modo che il grande reset con segno meno che loro vogliono portare avanti sia anticipato da un grande reset con segno più che faremo noi tutti insieme tutti insieme e si può fare siamo ancora in tempo sta rappresentando un numero variabile tra i 500 700 anche 1000 individui i quali per una ragione o per l'altra non sono qui in piazza ma la pensano esattamente come voi punto primo punto primo quindi siete molto di più di quanti già tanti siete stasera se poi questo lo moltiplichiamo per tutte le piazze del no paura dei in giro per l'Italia capite che il numero diventa veramente consistente questo numero composto in parte da persone che sono già convinte che non possa andare avanti così si debba cambiare e da una parte di persone che invece chiamiamo latenti cioè devono ancora arrivare a realizzare che queste cose qua vanno modificate a realizzare Grazie a tutti.